benvenuti in questo nuovo video analisi approfondimento questo video è relativo all sbs del volume 107 di one piece mettetevi comani state calmi seguitele bene ci saranno delle cose divertenti alcune invece molto interessanti iscrivetevi attivate la campanella mettete like ovviamente per chi ci vuole supportare maggiormente può fare le super chat durante le dirette può fare i super grazie sotto le live sotto i video e può addirittura abbonarsi con dei benefit che abbiamo dato quindi dei riconoscimenti che sono le emoticon personalizzate lo stemma fedeltà e l'entrata nel gruppo sub della verità privata su telegram bando alle ciance parliamo adesso dellsbs l'apertura di oda è su live action dice live action di one piece è stato svelato al mondo e io sono molto felice molto contento che sia andato abbastanza bene tant'è che ci sarà la seconda stagione ho un solo pensiero ma se inaki che è l'attore che interpreta rufi e anche gli altri personaggi che hanno interpretato i mugiwara eccetera eccetera avessero giocato bene questi ruoli no beh sarebbero sulla buona strada per diventare delle grandi star magari proprio di hollywood e questo significherebbe che io un giorno diverrò amico delle big stelle di hollywood non è fantastico ragazzi a tutti voi del caso aggiunge oda per favore non dimenticatevi di me poi mette un emoticon un emoji una faccina poi aggiunge bene allora adesso inizio a disegnare nella mia stanza come al solito le risposte per tutti voi iniziamo a parlare del volume 107 lettore oda ma il vero aspetto di musama potrebbe essere quello di qualcuno con una bocca molto larga lunga ed appuntita e dicevano certo adesso ti lascio un disegno con un messaggio così hai visto qual è l'aspetto di musama quindi ce lo svela in realtà disegna una persona non si capisce se è un uomo o una donna con una bocca lunghissima tipo una boccia di un elefante che sale a punta e la punta la forma è proprio quella che avrebbe musama con quella testa che sembra avere una colonna che poi è coperta da questo velo nero quindi capiamo che ovviamente è una caricatura non è non è veramente così ma ci mancherebbe altro un altro lettore oda quando vega punk aveva ancora la testa attaccata doveva lavarsela come faceva giusto giusto dice oda hai ragione perché prima che spostasse la maggior parte del cevelo nel punk records no lui immergeva la sua testa in una grande piscina dove c'erano i pesciolini dei pesci frega detti anche i pulitori che gli pulivano bene tutta la testa ancora un'altra domanda qual è il frutto del diavolo di boni cioè oda dice il lettore qual è il nome del frutto del diavolo sicuramente ci saranno state di inviare molte domande il re in merito ma per favore rispondici hai ragione me l'avete chiesto in tantissimi dice oda ma ho notato solo adesso pensando fra me e me ma come non l'ho ancora svelato bene ve lo dico adesso il frutto di boni si chiama toshi toshi no me e consente all'utilizzatore del frutto gli angeli del frutto di alterare liberamente l'età per il bene però di coloro che non leggono l'SBS da presto dirò anche nella narrativa cercherò di svelarlo all'interno della storia così che tutti voi potiate possiate in qualche modo capire il suo nome c'era un piccolo problema vi era relativamente un dubbio però attraverso la lettura dei kanji questo è stato risolto fra frutto età età o frutto anno anno i kanji sono proprio quelli dell'età e l'iragana anche ci dà questa risposta quindi toshi toshi no me e il frutto età età un po come tra virgolette il toki toki che il tempo tempo che gli permette di viaggiare eccetera eccetera per fortuna chiamato come ha fatto toki con il frutto non ha chiamato boni toshi altrimenti si chiamava toshi un'altra curiosità questa cosa simpatica quando brooke vide zoro dormire insieme agli ori a fianco poi c'era anche la piccola toko sembrava fosse uscito qualcosa da dalle insennature degli occhi che look non ha ovviamente dei pubbi oculari non possono essere le ombreggiature degli occhi perché lui non ce l'ha in realtà all'interno del bulbo che non esiste poteva essere un chicco di caffè che è nero ma in realtà è un'altra cosa un gatto nero un kuroneko che viene definito il nome di questo gatto è canane medama piccolo spam di pubblicità vi aspettiamo su youtube che è qui iscrivetevi che l'iscrizione è gratis mettete like che è gratis e supportateci anche sugli altri social grazie sempre abbiamo aperto anche la wishlist su amazon la giornalista che aveva interagito con vivi nei quartari di vivi o vivi come preferite si chiama janino cinodi a 24 anni questa ragazza lavora come giornalista per il dipartimento di morgas e più precisamente per quello di moda della international new company è considerata energica laboriosa ed è molto popolare all'interno della sua azienda un'altra cosa su boni o da perché rufi quando ha incontrato boni la prima volta la chiamata boggy boggy come sbaglia sempre e poi subito dopo ha sistemato il tiro chiamandola boni definitivamente c'è un motivo particolare bravo effettivamente hai ragione è stato cambiato questa immagine di questo nome che prima la chiamava in un modo e poi in un'altra perché rufi quando ha sentito che il padre di boni era poi stato trasformato in un cyborg si era emozionato ha detto oh ma com'è bella questa cosa quindi si era pentito di averla chiamata inizialmente con il nome sbagliato lo corresse immediatamente perché questo lo faceva sentire a disagio vedete che rufi non commetterà più questo errore la chiamerà sempre con il nome giusto un'altra bomba ragazzi tenetevi forte che poi in realtà si deduciva dal manga nel capitolo 1076 l'akiru dice parlando con beck via via se parli proprio tu beckman con chi pensi che si è riempiato questo ragazzo di kid appunto scopriamo che ben beckman è stato lui a tagliare i bracci è proprio lui e ora risponde sì è stato proprio lui e aggiunge beckman direbbe questa frase il mondo dei pirati e questo rimangono solo i più forti un altro lettore ciao da san rufi parlava del suo sogno ma c'era anche caribu sulla nave in quel capitolo dentro un barile quindi anche caribu ha scoperto il sogno di rufi risponde oda no molte persone sono rimaste infastidita questa cosa per favore attentamente ascoltatemi e guardate lui e ci sono il barile e non può sentire molto bene quello che dicono fuori quindi solo la ciuma di cappello di vai ha scoperto il sogno caribu no un altro lettore cia oda ma cosa farebbe tre ammiragli principali quella nel passato cioè a kainu kizaru e aokiji se non fossero anziano nel manga ma portandoli nel mondo reale che tipo di lavoro e professione penso che tutte e cinque ammiragli di cia oda quindi include anche fujiroga e aramaki potrebbero fare i presentatori radiofonici tutta la notte nippon dei tre ammiragli e poi sono cinque per coloro che non la sanno andare a cercare nota l'all night nippon orunaito nippon è una radio molto importante programma radiofonico giapponese trasmesso appunto dalla nippon broadcasting system è una sezione radio che va da luna di notte alle cinque del mattino vabbè lavoro interessante ancora un lettore dice oda in passato kobi voleva diventare un ufficiale della marina volume 1 capitolo 7 adesso ha cambiato nel volume 45 405 capitolo 453 dice di volerli diventare un ammiraglio il problema è questo ma la questione che lui è uno sword è come se fosse quindi un marini che ha dato le dimissioni può aumentare di grado formalmente cosa succederà bravo ottima domanda dice oda la spiegazione sulla sword è stata un po' complicata non è vero nel capitolo 1080 o chi ci disse che chi presentava i documenti formalmente per le dimissioni era poteva essere rinnegato dalla marina in qualsiasi momento ma non che lo fosse già ciò significa che hanno rassegnato le dimissioni ma non sono stati licenziati e questo è importante perché nel caso in cui soldato ver venga catturato e diventi un ostaggio i marini in quel caso faranno valere le dimissioni dicendo quella cazzo non è più un marino abbandonandoli ma nel caso in cui non succeda continueranno ad agire a nome della marina anche se chiamati sword ciò implica che se sei un membro della sword il tuo grado può ancora aumentare finché qualsiasi generale della marina non riconosce per esempio di licenziarti nel caso di copy un membro della sword infatti è diventato ostaggio in campi di centinaia di marini da barba nera quando si erano sfidati alla mazzolili solo che noi sappiamo che non sappiamo ancora se un marino o noi abbiano sconfessato o abbiano licenziato lo scopriremo più avanti però probabilmente copy può salire di grado i bari un attimino sempre la sword ha uno stacchiotto uno zaino con uno stacchiotto simpatico ci puoi dare qualche dettaglio da certo l'hai notato qui l'orso è il portafortuna di bari e il suo tesoro lo tienesi da piccola quando copy la salvò in un campo di battaglia lei perso l'ostacchiotto pochi giorni dopo copy è ritornato sul campo di battaglia per recuperare questo stacchiotto e torna molto ferito e venne rimproverato così ridiede l'ostacchiotto il suo tesoro ai bari è stato grandissimo copy lei si mise a piangere ed eternamente grata a lui infatti lo chiama copy senpai e probabilmente anche l'ostacchiotto è venuto chiamato così probabilmente è perdutamente innamorata di lui ma io sono un po' ottuso in queste cose dicevola quindi al 100% non ve lo posso dire un'altra cosa della visiera di grus del berretto che porta a prince grus e lui dice che la porta a sita bambino perché gli capitava spesso sul consiglio della mamma che mentre camminava era sempre lo sguardo basso e quindi andava a urtare oggetti muri mucche persone anche i pirati quindi la madre ha consigliato di mettere questo questa visiera perché una volta venne ferito gravemente imbattendosi in un pirata e quindi lui la porta sempre così arriva prima il berretto e poi lui essendo molto lungo e evita di urtare le persone la frusta di kujaku la nipote di zulu la marina e la vice ammiraglio si chiama beethoven incredibile con le parole del kanji che dicono beethoven che significa frusta militare da combattimento quindi è un doppio significato e d'acciaio è così forte da poter spaccare qualsiasi cosa anche le rocce viene confermato che pitagora punk 04 di vegapunk appunto è stato preso sulla classificazione dello design dello stile del della serie televisiva gamba re robocon o la disegna usopp in year fifth uno schizzetto simpatico e viene detto anche che jiron o jiron come preferite dell'armata rivoluzionaria uno che viene presentato di recente viene ispirato proprio hammos jiron dell'anime mecha combat mecha xambol di quindi dalla uno degli autori di gundam detto questo ho da finito ragazzi io con la sbs vi ripeto iscrivetevi mettete like condividete ditemi la vostra l'hashtag sbs 107 oppure potete mettere negli hashtag non lo so beckman e cattariati in braccio a kid il frutto di tra virgolette boni o le cose che più possono avervi interessato sbs simpatica alcune cose sono molto simpatiche alcune cose sono molto interessanti però ripeto questo è l'hashtag voi iscrivetevi mettete la campanella personalizzatela potete mettere anche tutte le notifiche così vi arriva quando saremo in live recuperate le vecchie live di domenica recuperate gli shorts recuperate i video e niente alla prossima anche oggi abbiamo parlato solo della verità perché ovviamente queste è un video analisi quindi è verità e speriamo che alcune cose verranno anche svelate nel manga oltre che nell'sbs ci vediamo presto non sfogliate mi raccomando